Conoscere il fiume Noncello, questo è il nome del progetto iniziato questa mattina, 13 aprile, che proseguirà fino al giorno 22. Nato dalla collaborazione tra l'Associazione Gomonauti Pordenonesi e il Comune di Pordenone, ha lo scopo di far conoscere il fiume Noncello agli studenti della città, l'assessore comunale all'ambiente Nicola Conficoni. Lo scopo di questa iniziativa sviluppata in collaborazione con l'Associazione Gomonauti è proprio quello di far conoscere il fiume alle giovani generazioni. Riteniamo che sia un modo intelligente di salvaguardare quella che è una straordinaria risorsa, un patrimonio identitario e ambientale della nostra città. Dopo le elezioni gratuite di Canoa organizzate lo scorso anno, un'altra dimostrazione della volontà dell'amministrazione comunale di riavvicinare la città al suo fiume. Questa è un'imbarcazione denominata Pontonbot, è un'imbarcazione particolare perché non ha la chiglia tradizionale, ma bensì dei tubolari per poter navigare su bassi fondali. Ha una portata di circa 30 persone, perciò porteremo ogni giorno tre scolaresche, una alla volta, così potranno ammirare le bellezze del fiume Noncello. Faremo indossare a tutti i ragazzi il giubbotto per la loro sicurezza. Grazie a tutti i ragazzi il giubbotto per la loro sicurezza. Grazie a tutti i ragazzi.